Buongiorno, sono il dottor Zanna, sono un medico chirurgo e mi occupo di chirurgia orale maxilofaciale da oltre 30 anni. Il MyCart, che sostanzialmente è un tavolo di maio, quindi ha la possibilità di essere movimentato in senso verticale con estrema facilità e rapidità, al quale però è collegato sostanzialmente in un unico blocco un vero e proprio riunito odontoiatrico, quindi nel quale possono essere inseriti a scelta varie strumentazioni, in questo caso ad esempio l'ablatore, turbina, micromotore, siringa, tutte attrezzature che in una normale sala operatoria adibita quindi per un utilizzo che non sia espressamente odontoiatrico o per la chirurgia orale, normalmente chiaramente non possiamo trovare. Quindi è un'attrezzatura estremamente utile per tutte le procedure di chirurgia orale che possono essere attuate nell'ambulatorio chirurgico della struttura odontoiatrica. La versatilità di utilizzo di questa apparecchiatura ci permette anche di posizionare in realtà il tavolo di maio e quindi il vassoio e in parte anche la strumentazione sopra il paziente e questo è lo stesso una caratteristica che sicuramente rende il lavoro dell'operatore in determinate situazioni estremamente più agevole, in particolare quando si stia lavorando ad esempio a quattro mani e non a sei, a seconda diciamo della organizzazione del team operatorio, in determinate situazioni questa possibilità di movimentazione è sicuramente molto molto vantaggiosa. Vediamo appunto nella pratica questa possibilità di allestimento, non si fa altro che prendere il my kart e spostarlo, alzarlo con il pistone oleopneumatico fino all'altezza desiderata e quindi andarlo a posizionare perfettamente sopra il tavolo operatorio. Ci si rende perfettamente conto che a questo punto per l'operatore la dinamica dell'intervento, l'ergonomia è sicuramente estremamente facilitata. Altra caratteristica molto importante di my kart è quella che il vassoio può traslare lateralmente in questa maniera e quindi permetterci proprio di andarlo a posizionare esattamente sopra il paziente quindi avere un'accessibilità alla strumentazione ancora più comoda. E non finisce qui perché my kart dà altre possibilità estremamente utili e sono queste ovvero la possibilità di smontare rapidissimamente con estrema facilità tutti i supporti sui quali sono alloggiate e alloggiata la strumentazione e autoclavarli. Questa è una caratteristica che nessun altro riunito a carrello mi risulti abbia a disposizione almeno al momento. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. e vi ringrazio per l'attenzione.